Che si deve provare? Con tanta contentezza, come l'ho detto prima alla RAI, che è andato tutto in bene, chiuso. Poi quando torna se ne parla, va bene? Comunque l'ha aspettata a braccia aperte? Certo, io l'ho sempre aspettata a braccia aperte, non pensavo che mi avesse fatto del male, come ho detto oggi, perché non è una di quelle che si poteva far sottomettere, però è andato tutto in bene, meglio così. La preoccupazione c'è stata, è stata anche tanta in questi giorni, immagino. Tanta, meglio che glielo dica quanto. Che giorni sono stati? Lei si immagina i 18 giorni, quanto sono 18 notti, 18 pranzi, pranzo che mangio al lavoro, la sera cena, preparare da cena, lavare i piatti. Tanto, tanto, non ho parole. Qualcuno si può mettere nei miei panni, poi dopo lo sa. 30 anni di matrimonio, quasi 28, 7 di fidanzamento e una sparizione così fantasma. Fantasma. Voglio sapere anche perché, ecco, quella è una cosa importante. Però ci ho parlato, ha detto che torna, chiuso. Ecco, è riuscito a parlarci, cosa vi siete detti? Ci ha parlato il mio figliolo. Ha detto che torna. Mi sembrava molto dispiaciuta. Secondo me è come se non... Avesse fatto qualcosa che non l'avrebbe fatto lei, ecco, intendiamoci. Ha detto che non ha ascoltato quello che hanno detto, che non è niente vero. Poi quando torna, ecco, perché l'hai fatto, perché sono cose nostre, ecco, intendiamoci. Giusto? Cosa ha pensato appena avete ricevuto una chiamata? Come avete fatto a saperlo? No, ha telefonato la polizia di Napoli. In cui era il mio figliolo che era a Venezia. A Carnevale gli hanno detto, gli ha telefonato un amico, ha detto che era morta. Dove l'ha letto nel giornale, gli ha detto, guarda che è la tua mamma, a pace di Susi, è morta. Il mio figliolo ha fatto delle indagini, invece risultava di no. E la polizia può stare ha chiamato il suo figlio? Prima ti ha chiamato il mio figliolo, prima di Napoli l'ha chiamato il mio figliolo, poi ha chiamato qui. Che le hanno detto? Che è lì, e io ho detto se può parlare, ha detto aspetti che la chiamo, poi è andato il telefono il mio figliolo che è più piccino e ci ha parlato. In cui piangeva, non si è capito abbastanza quello che diceva, ecco, voglio essere onesto. Comunque ha detto domani o dopo domani torna. E è chiuso. Cosa ha pensato in quel momento? Ho pensato che un incubo si è concluso, ecco. Che era molto un incubo anche di avere paura, veramente, perché se ne sente tante, glielo assicuro. E un qualcosa era successo anche a me, perché pensavi che fosse stata la volta anche la tua, nel senso, quando senti la televisione, quella è scomparsa, ma tu parli di quell'altro. Poi è arrivato a me che io, è una cosa che non avrei nemmeno pensato mai, 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 mai. Ero sicuro che lei stava bene, intendiamoci, però... Meglio così. Ti tira un sospiro di solievo stasera? Certo. Penso di dormire un pochino meglio. Quando mi sveglio, ho pensato tante notti, glielo assicuro, tante, tante, tante. E ci ho pianto tanto, io lo giuro. Tanto. Perché io gli ho voluto bene parecchio, e lei lo sa. Chiuso, basta. Che potrebbe essere successo, secondo lei? Non lo so. Una sbandata per il telefono. Chiuso. Come ho detto tanti, solo i cellulari. Il mio no, glielo assicuro. Solo il cellulare. E lei ultimamente la usava. Quando torno, la prima cosa che gli dico, perché l'hai spento quando hai mandato un messaggio? Stop. Basta. Era questo che la preoccupava. L'hai detto se non hai il telefono in mano o sottoterra? Certo, certo. Perché l'hai spento? Non capisco ancora il perché. Comunque, come dicevo a tanti, che lei era sempre lì a Napoli. Chi ha incontrato, lui sapeva qualcosa. E lui è uno di quelli che sicuramente ha avuto la svolta, glielo assicuro. Perché lei non andava lontano. L'uomo sapeva dove era, secondo lei? Certo. Non ascolti quello che dicono. Io sono uno di campagna. Ho il cuore onesto, il cuore pulito. Loro, non loro perché di Napoli. Perché Napoli è un paese come Subbiano, Arezzo, Firenze. Però lui sapeva. Tanto. Secondo me, tanto. Ha capito. Lo sai che ora era anche, come hanno detto la televisione, un reato di, come si dice, lei lo sa meglio di me via. Se questo. Di sequestro di persona. Ecco. Che lei lo dice che magari, dico la mia opinione, no? Se siamo osse tutto qui. Ecco. È una cosa un po'... Forse anche l'appello del figlio, secondo lei, può averla smossa? Comunque sentire le parole del figlio, di un figlio, insomma, a cuore di mamma. Gli posso dire questo che basta. Che lei è una molto intelligente parecchio. Gliel'assicuro. Parecchio. Come ho detto tante volte. E lei dal primo giorno che è andata via, dal secondo, dalla denuncia, sapeva tante cose. Chi dice che magari non poteva anche... Ecco. Non lo so. Non lo so. Cioè, ha temuto qualche ritorzione penale, legale? No, no, no. Non lo so. Quando torno lo scoprirò. Ecco. Se torna la prima cosa che mi faccio, dimmi perché è andata via. Chiuso. Poste. Poi si può perdonare a tutti la prima volta. Giusto? Va bene?